Ciao a tutti, sono Andreex97 da Mr. Green Gaming, questa è la sectione map Siria e oggi siamo inspeccati la map Gold Island, iniziamo! Iniziamo a guidare direttamente sul lato per preparare il prossimo turno, si racconta e si racconta violenta per avere un esito più veloce, abbiamo un piccolo drift, andiamo a direttamente a direttamente vicino ai due bambini, a direttamente e a direttamente, restiamo attaccati sul lato verde, rilassiamo un po' di trattura per tornare a girare e eseguire con velocità, sul pietro ora, restiamo a lato verde e poi rilassiamo a lato verde, vicino alla pietra, e poi torniamo a lato, più inizio possibile ma evitando la rocca, poi usiamo la pietra con lato del carro, e poi completiamo il turno, vicino alla pietra, restiamo inizio, vicino al bambino rilassiamo un po' di trattura per evitare di andare direttamente sull'estazione gas, torniamo un po' a lato verde e poi torniamo la pietra, torniamo a lato verde. Grazie per aver guardato, ci vediamo nel prossimo video! ricordate di seguire Mr Green Gaming Instagram e Facebook! Grazie per aver guardato il video!